Ciao, mancano i soldi? I soldi non bastano? Sei in difficoltà e ristrettezze? Il Banco dei cittadini volontari del progetto Valasco le allevia e realizza nuove e vantaggiose opportunità per tutti con un'attività socio-economica globale. Conosci un po' il mercato? Hai mai pensato a quanto valgono le attività socialmente utili svolte dai volontari? A quanti soldi nel commercio si buttano in sconti? Il progetto Valasco organizza contabilizzazione dell'operato volontario e degli sconti applicati dai commercianti, concretizzando vantaggiosi val spendibili da te e dalla tua famiglia. Tu, cittadino volontario, qualunque sia la tua condizione, scarica l'app www.valasco.it. Sul tuo wallet, borsino, su smartphone, tablet o pc, ti verranno ricaricati sei val al giornalieri con anticipo di una mensilità di 180 val. Con il val potrai concordare, definire e concludere i baratti o servizi di cui hai bisogno o che ti sono stati richiesti. Tu che lavori nel commerciale diventa cittadino volontario del progetto Valasco, fidelizza i clienti e non perdere totalmente il valore dello sconto proposto. Accetta parzialmente Valasco che potrai a tua volta a far circolare. Il banco dei cittadini volontari del progetto Valasco in solidarietà ti aiuta in quello che vuoi fare e in ciò di cui hai bisogno. Iscriviti, riceverai mensilmente 180 val. Sperimenta sulla nostra piazza www.pagineazzurre.net come far circolare più val e spendere meno euro.